Presidente c'è stato un altro brutto incidente questa mattina su Lofantina, c'è qualcuno che invoca anche l'intervento della provincia e dell'ANAS. Lei come primo inquilino di Palazzo Calaccio cosa può fare per rendere più sicuro questo tratto? Quello che faremo sicuramente è di sollecitare l'ANAS, purtroppo è una situazione abbastanza incresciosa, sappiamo le difficoltà e quindi noi cercheremo anche di sollecitare l'ANAS affinché possa intervenire con qualche segnaletica, con qualcosa di concreto ovviamente ma più di questo non si può fare, bisognerebbe solo richiedere di essere più rapidi e quindi di eseguire questi lavori quanto prima. I cittadini pendolari reclamano una segnaletica piuttosto scarsa, anche l'asfalto non sarebbe il migliore? Non possiamo intervenire noi, perché noi abbiamo la provincia divisa in ambito per cui noi abbiamo la possibilità di intervenire anche domani mattina in caso di urgenza, la provincia è cosa diversa dall'ANAS evidentemente, noi siamo più rapidi sicuramente però non possiamo intervenire, se c'è un'intesa con l'ANAS sì lo possiamo fare, proveremo a chiamare l'ANAS per trovare una soluzione anche per una segnaletica veloce, giusto per eliminare i pericoli che ci sono. Un intervento in manutenzione straordinaria, considerando che c'è anche il ponte di Parolisse? Sì, se ci danno l'autorizzazione sì, proveremo a chiamare per vedere se è possibile questo, ma se sono tempi lunghi per loro sono loro responsabili per la sicurezza e l'ANAS. Grazie.